Sinner ha fatto moltissimo, ha lanciato quest'anno il tennis in Italia in maniera incredibile, ormai chiunque guarda il tennis perché Sinner è diventato un mito e questo sicuramente aiuta sia noi, aiuta i circoli in genere e aiuta lo sport. Noi quest'anno dopo 35 anni faremo ancora una volta questa edizione importante, importante per il turismo perché noi abbiamo circa 10 milioni di spettatori l'anno, sono persone che si collegano da 200 paesi quindi abbiamo una grande visibilità, è un momento importante per la nostra città perché riceviamo anche una quantità numerosa di stranieri che riescono ad apprezzare bene il mare perché li ospitiamo a Mondello, in un albergo sul mare, abbiamo una buona cucina, bellissimi monumenti, ci sono tanti motivi quindi spesso e potenti li sponsoro ma anche i manager che vengono a seguito le giocatrici si innamorano della nostra città e successivamente organizzano anche meeting, quindi è un'occasione veramente importante per lanciare il Palermo nel circuito mondiale. La settimana dopo il nostro torneo iniziò le Olimpiadi, le Olimpiadi saranno a Parigi nei campi di Romangarossa, terra battuta, si esce dal verde, dal green di Wimbledon, ci siamo noi e poi ci sono le Olimpiadi quindi tutte le giocatrici che devono andare alle Olimpiadi hanno bisogno di un torneo in terra rosso dove allenarsi e quindi noi siamo il migliore torneo che c'è però la certezza l'avremo sempre nella seconda settimana di Wimbledon perché chi arriva la seconda settimana è già stanca quindi magari deve scegliere di riposarsi, quindi ci sono tante difficoltà. Non ultima poi la parte media, ora lunedì 13 presentiamo il torneo durante l'internazione di Roma alla sala stampa della federazione e anche là è un momento importante perché là lanciamo la biglietteria perché fino ad oggi abbiamo già acquisito circa 2000 biglietti ma la parte inizia ora è la vera vendita che è quello che poi finanzia il torneo.